Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare sono Namecciano Benvenuti a tutti popolo Namecciano Rieccoci qua in questa landa deserta chiamata Namec per un nuovo video In questo video risponderò a una domanda che magari molti di voi si pongono diciamo Ovvero quante uccisioni ha fatto Goku nel corso di tutta la serie di Dragon Ball Ovvero Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super e anche i film Infatti in questo video introdurrò non solo le uccisioni canoniche di Goku ma anche quelle non canoniche E prima di scrivere nei commenti cose del tipo ti sei dimenticato questo, ti sei dimenticato quest'altro Vi ricordo che in moltissimi casi Goku tramortisce i suoi nemici o li lascia in fin di vita ma non li uccide, li risparmia Questo ad esempio è il caso della squadra Ginyu che appunto Goku sconfigge quasi interamente da solo Però poi è Vegeta ad uccidere tutti i suoi membri Ovvero a terminare la loro esistenza con una mossa finale In questo video metterò anche le uccisioni che Goku ha fatto in cooperative Ovvero anche nemici che vengono ad esempio uccisi da tre personaggi insieme comprendenti Goku Tra l'altro se questi tipi di video vi possono piacere mi raccomando lasciate tanti like E farò altri video simili con tutte le uccisioni ad esempio di Vegeta, di Freezer Insomma di tutti i personaggi principali Ma ho parlato sin troppo e direi di iniziare con il primo Dragon Ball La primissima uccisione che fa Goku nel primo Dragon Ball Che però non viene mai mostrato nel manga né nell'anime E' quella, pensate un po', di suo nonno Gohan Infatti il nonno Gohan viene ucciso da Goku inconsapevolmente Ovvero quando Goku vede la luna piena per la prima volta si trasforma in scimmione Gohan nel tentativo di fermarlo ci lascia le penne E anche se abbastanza stupido ho voluto introdurre l'uccisione del pesce Che all'inizio di Dragon Ball Goku caccia nel fiume Abbiamo poi l'uccisione dell'orso che voleva mangiarsi la tartaruga del maestro Motimi Che appunto viene fermato da Goku E l'opterodattilo che prova a rapire Bulman all'inizio del manga Passando alla saga del Red Ribbon abbiamo un sacco di omicidi da parte di Goku Quindi scorrerò abbastanza velocemente Anche perché molti di voi non conosceranno alcuni dei personaggi che elencherò E si, c'è da dirlo, Goku nella prima serie ha fatto una fottuta strage Iniziamo da Black che appunto viene ucciso da Goku No, no, non questo Black naturalmente Bensì questo sergente del Red Ribbon nero Ma che cazzo di vaggio qui E non è neanche stato posseduto da Zamasu Il robot teschio che tra l'altro secondo me ha un design fighissimo Il sergente tigre Il nostro peso che è ucciso da Goku nella torre gelata E che viene liberato dal capo del Red Ribbon E oltre a tutti questi mostri sergenti Goku fa anche, diciamo, strage di moltissimi soldati del Red Ribbon Infatti come una gamma mea ne uccide più di una decina Quindi un vero assassino Nella saga del Grande Mago Piccolo, Goku furioso per la morte di Krin Uccide il suo assassino, ovvero Tamburello E anche l'altro figlio del Grande Mago Piccolo, Drume Che le stava dando di brutta tensione Con una facilità devastante E il Grande Mago Piccolo stessa alla fine di Dragon Ball Con una kill veramente figa Ma passiamo al Dragon Ball Z Qua, a molti di voi potrà sembrare stana questa cosa Goku uccide veramente pochissimi nemici Infatti Goku molte volte risparmia la vita ai nemici Come ha fatto ad esempio con Nap, con Vegeta, con Freezer I nemici che Goku uccide sono soltanto due Ovvero il mostro Yakon Che è uno dei mostri liberati, diciamo, dal Mago Babidi Che Goku uccide facendoli mangiare la sua aura E naturalmente ha una delle sue kill più famose Ovvero quella di Kid Buu con la sfera Genkidama Ma una chicca che magari non tanti ricordano È che Goku in Z, di la verità, uccide altri due nemici Ovvero il Re Cold e Mecha Freezer Ma non nella nostra timeline che tutti conosciamo Dove Trunks ritorna dal futuro per aiutare Goku e i suoi amici Bensì nella timeline originale Dove tutti i guerrieri Z venivano uccisi dagli androidi In quella timeline Goku grazie al teletrasporto appena preso sul pianeta Iadrat Quando sente l'ora di Re Cold e Mecha Freezer arrivare sulla terra Si teletrasporta e li uccide lui e non Trunks Ma passiamo a Dragon Ball Super In Dragon Ball Super Goku uccide soltanto due nemici O almeno per ora perché vi ricordo che Dragon Ball Super è ancora in corso E quando sto registrando il video siamo giusto all'inizio del torneo fra tutti gli universi Ovvero Golden Freezer, Kill che Goku ruba spudoratamente a Vegeta Tornando indietro nel tempo grazie a Whis E anche Kill meno famoso ma comunque un'uccisione Anche se è filler e quei filler ne hanno fatto abbastanza schifo Dopo uccide anche la copia gelatinosa di Vegeta Quella li viola Grazie a Monaka che per sbaglio riesce a indebolire il mostro gelatinoso E Goku con una gamma me out lo finisce Ma passiamo a Dragon Ball GT Non c'è un drago più super di così Qua Goku fa una vera e propria strage Nella primissima saga del viaggio di Goku, Pan e Trunks in giro per l'universo Goku ammazza un sacco di cattivi nuti Alcuni di questi manco mi ricordavo Leon, il mostro Lud che ammazza grazie anche all'aiuto di Pan Che aveva tirato una gamma me out dal suo interno visto che era stata indiottita Il comandante Nezi, Bizzu Ribet e chi il più importante il comandante Linde Che Goku, Trunks e Pan ammazzano con una tripla gamma me out Tra l'altro un personaggio niente male è il comandante Linde Peccato che non gli venga dato troppo spazio Poi Goku uccide anche nelle altre saghe i cattivi principali Nella saga di Baby uccide Baby con una gamma me out per 10 e lo scaglia sul solo Un'uccisione bellissima Uccide Super G17 grazie all'aiuto di C18 con il pugno del drago E tra l'altro vi ricordo per chi non lo sapesse che non è una mossa canonica Goku usa il pugno del drago soltanto in Dragon Ball GT e nei film Quindi in teoria non potremmo mai vedere un pugno del drago in Dragon Ball Super Però dai dal momento che è stato ufficializzato la trasformazione Super Saiyan Legendario Ci si può aspettare di tutto E vedere Goku ammazzare qualcuno con quella mossa sarebbe fighissimo E poi Goku uccide anche praticamente tutti i draghi malvagi dell'ombra Ovvero Acer, Age, Oceanus, Nautron, Su e Omega Sherron Tutti quanti, praticamente a parte San Sherron E dà la sua vita per cercare di ammazzare Omega e Sherron e pochissimi altri Ma passiamo adesso ai film Infatti anche nei film Goku fa una marea di uccisioni Visto che i nemici dei film devono venire per forza uccisi alla fine dei film Visto che non essendo canonici non li possiamo poi rivedere nella saga principale Quindi non avrebbe senso che Goku li risparmiasse come ha fatto con Frida la prima volta con Vegeta Nel film La principessa dormente nel castello del diavolo Goku uccide Lucifero Questo essere, diciamo, vampiresco che si voleva mangiare bui Ma grazie all'ausilio della ganna ne ha Stranamente, visto che Goku non la usa mai Nel film di Garly Junior, ovvero Dead Zone Goku uccide i due sgherri, diciamo, di Garly Junior Ovvero Niki e Ginger Mentre Garly Junior, come sapete, ha desiderato l'immortalità E viene intrappolato nella Dead Zone, appunto Nel film Il più forte del mondo, Goku uccide un po' di personaggi Che sono, diciamo, sgherri del Dottor Willow Ovvero Misokatsun, Kishime e Debbie Fury Personaggi abbastanza inutili messi dal Dottor Willow per testare la forza di Goku E poi, naturalmente, Goku ammazza anche il Dottor Willow stesso Nel film di Tarles, L'albero della vita Goku ammazza anche qua un bel po' di sgherri di Tarles Tutti uccide grazie, tra l'altro, a Kaioken in una mossa sola praticamente Ovvero Rasin, Lakasei, Daiz, Kakao, Amond E poi alla fine, ovviamente, grazie alla sfera Genkidamo, ammazza anche Tarles Anche nel film di Slug, Goku uccide i due sottoposti di Slug Angela e Meda Macha E poi, sempre con la sfera Genkidamo, uccide anche Lord Slug Sempre originale sto Goku Nel suo film, Goku uccide poi Cooler Che però ritorna nel film Il ritorno di Metal Cooler Infatti non si può dire che sia propriamente morto E lo stesso Metal Cooler viene definitivamente sconfitto da Goku Che grazie a un sovraccarico di energia Fa esplodere il Gaestar Ovvero quella struttura creata da Metal Cooler E diciamo uccide tutti i Metal Cooler L'Androide 13 viene ucciso da Goku nel suo film Grazie a una mossa fighissima Con cui Goku assorbe la sfera Genkidama E ammazza il nemico con un pugno Nel piano dello sterminio dei Saiyan Goku, insieme a Trunks, Vegeta, Gohan e Piccolo Riesce a sconfiggere Ayake L'essere creato dall'odio e delizio furbe Verso la razza Saiyan Grazie a una serie di attacchi energetici combinati Nel mio film preferito La rabbia del Dragon Goku con un bellissimo pugno del Dragon Super Saiyan 3 Uccide Yigarne Poi anche se l'ho già messo in Dragon Ball Super Mi sembra giusto ricordare Che in teoria il film della risturrezione di F Fa parte di Dragon Ball Z Quindi diciamo che Golden Freezer viene ucciso Sia nella serie canonica di Dragon Ball Super Sia nel film Però è la stessa uccisione Quindi vale come una sola E niente Queste sono tutte le uccisioni di Goku Nel mondo di Dragon Ball E niente Io spero che questo video vi sia piaciuto E vi abbia interessato Vi ricordo che se questi tipi di video vi piacciono Di lasciare un bel mi piace Così magari appunto farò altri episodi simili Con altri personaggi Come ad esempio Vegeta Dicatevi di iscrivervi al canale Per non perdere i prossimi video Tanamec è tutto Noi ci vediamo alla prossima Addio Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima